Si continua a vaccinare, questi giorni arriverà anche un nuovo vaccino a Biella. Sì, questo è importante. Anche sul versante delle vaccinazioni, noi abbiamo avuto, come da obiettivo regionale, dei giorni nei quali abbiamo raggiunto pienamente quelli che hanno stati prefissati come obiettivi a ciascuna ASLE. Per quanto riguarda noi, con punte di oltre 2.000 vaccinazioni, in quel caso la maggior parte dosi cosiddette booster, terze dosi per intenderci, ecco, attualmente i numeri, proprio in relazione a quelle che sono le scadenze temporali, i richiami, le terze dosi, si aggirano intorno ai 300-400 vaccinazioni al giorno. Abbiamo raggiunto, con almeno una dosi di vaccino, oltre 130.000 persone e le terze dosi o dosi booster hanno raggiunto oltre 95.000 unità. Quindi diciamo, siamo a buon punto, abbiamo un programma che sta andando avanti, in maniera organizzata, con il supporto sempre, ricordiamo, di tutti gli operatori, con grande senso di responsabilità e contributo da parte di tutti. E quindi su questo versante siamo anche qui abbastanza soddisfatti. Arriva, come accennato, un nuovo vaccino, nuovo nel senso che è diverso dagli altri, ha una tecnologia diversa. Sappiamo incontrare il favore, probabilmente, di alcune frange di popolazione che per vari motivi avevano visto con diffidenza i vaccini a mRNA e questo può essere un auspicio e una possibilità per raggiungere quella quota di residenti nella nostra ASL che ha ritenuto al momento ancora di non farsi vaccinare. E quindi è un'ulteriore possibilità con la quale noi integriamo l'offerta della vaccinazione alla popolazione. Grazie. Grazie. Grazie.